Notizia di questa mattina, i lavori allo stadio Selvapiana sono addirittura ad arrivo. La struttura dovrebbe essere riconsegnata venerdì, ma non escluso anche un giorno di anticipo. Il Capopasso vorrebbe a questo punto organizzare l'amichevole proprio allo stadio Selvapiana, ma si rischia per tempi burocratici e autorizzazioni di emigrare per l'ultima volta al Vita Antonio di Ripalimosani. Domenica lupi in campo, il test match sarà contro una squadra di Serie D, anche per provare a rimpiazzare la mancata disputa della gara di Coppa Italia, prevista inizialmente proprio per domenica 30. Al momento il Torrecuso ha dato la disponibilità e dunque si prospetta un amichevole proprio contro i campani allenati da Francesco Farina, possibile avversare inoltre qualora il Campopasso dovesse finire nel girone H, quello campano-pugliese per intenderci. A testimoniare la grande incertezza che regna sulla composizione dei gironi, Questa mattina il sito web Il Notiziario del Calcio ha inserito il rosso-blu nel girone F con Abruzzesi, Marchigiane e Umbre. Altre fonti danno per certa la presenza delle molisane nel raggruppamento H per una questione meramente geografica. Non è da escludere la possibilità anche di un girone a 20 squadre, visto che saranno tre i gruppi proprio con 20 compagini. Insomma un vero caos, anche perché non è ancora ufficiale, il ripescaggio del Monopoli in Lega Pro al posto del Castiglione che ha rinunciato al campionato. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro questa settimana sulla definizione generale della Serie D. Di certo i colpi di sorpresa sono dietro l'angolo, anche visto l'andamento di questa movimentatissima estate a livello federale. Per quel che riguarda la squadra, oggi ripresa degli allenamenti, i cappellacci e la società continuano a monitorare la questione relativa al classe 95 da inserire a centro campo. Come noto, Albanese ha dei seri problemi fisici che li potrebbero compromettere l'intera stagione sportiva. Un vero peccato per questo ragazzo davvero promettente e seguito da tempo dalla società rosso-blu. Già sulle tracce del classe 95 dai primi mesi dell'anno, quando Albanese si è regolarmente allenato con il Lanciano in Serie B. Insomma, un problema che ha scombustolato leggermente i piani di società e allenatore. In prova, come noto Grazioso e Aprile, proprio il primo di origini molisane, precisamente di San Martino in Pensilis, sarebbe felicissimo di firmare proprio per i lupi. Entro la fine della settimana, previsto anche l'ingaggio di un portiere classe 97, per definire ulteriormente la rosa alle dipendenze di Cappellacci.